Ehi, c'è una bellissima novità in centro in via Caffi 18 a Belluno! Un nuovo punto vendita negozi idea casa, dove puoi trovare un ambiente accogliente, piacevole e amichevole, per arredare con passione la tua casa. Personale gentile e qualificato ti aspetta con un vasto assortimento prodotti ad un ottimo rapporto qualità-prezzo. Vieni a scoprire le nuove collezioni invernali e l'offerta più mini, che a settembre li paghi meno!